buonasera come sapete tutti i draghi si è dimesso e quindi il 25 di settembre si andrà a tutti a votare e cosa cambierà dopo questa data assolutamente nulla ci sarà un altro governo più o meno uguale a quest'ultimo aumenterà la stensione cioè gente che non va a votare il che non cambierà assolutamente niente e non conterà niente e dopo le elezioni la destra avrà i numeri per fare il governo e lo farà la politica sui grandi temi tipo l'economia i rapporti internazionali la gestione del problema sanitario rimarrà più o meno la stessa del governo precedente che poi è la stessa della sinistra che è la stessa del governo dem americano e dell'unione europea la destra si distinguerà sbraitando e ululando alla luna su cose tipo no alla cittadinanza tramite lo ius culture no alla cannabis e difesa della festa della mamma dopodiché dopo pochi mesi cominceranno a litigare salvini meloni e berlusconi cadrà il governo e tornerà il pd con il 19 per cento dei consensi perché è ragazzi necessario c'è la crisi economica c'è la crisi c'è la pandemia c'è la peste c'è la guerra c'è il cambiamento climatico le cavallette l'invasione degli alieni la cometa la cosa che trovo veramente ridicola è come dopo quasi 30 anni c'è ancora chi aspetta l'avvento della destra al governo che rappresenterà il vero volere degli italiani ma che è tenuta lontano dal potere perché è temuta e demonizzata dall'establishment nascosto e perverso la destra governa dal 1994 in italia alternandosi e affiancandosi alla sinistra in certe realtà locali al nord rappresenta ormai la quinta essenza del potere consolidato e della vecchia politica nel governo che si è appena dimesso c'erano tutti anche la destra compresa la meloni unica opposizione blanda e di facciata e che gli varrà qualche voto in più voto buttato via e per chi volesse cambiare radicalmente le cose esiste una valida alternativa beh c'è tutta l'area l'area antagonista che si chiama mi pare uniti per la costituzione hanno fatto un cartello unito dove c'è ancora italia di toscano il comunista marco rizzo ingroia enrica perrucchietti ecco io penso che lei sia già un motivo valido per votare da quella parte ma queste sono opinioni personali che forse vanno al di là dell'analisi politica ma quelli che di cui stai parlando te non sono i no fax filo putiniani quindi lo schifo più totale no ragazzi calma e ragionate però su questa cosa perché vedete sul discorso green pass è crollata la sinistra e sul discorso guerra è crollata tutta la politica non crollata oggi e neanche domani o dopo domani ma ha posto le basi per la sua fine vedete io penso che la gestione della salute pubblica sia una cosa molto seria che il covid sia una cosa seria e sia una brutta malattia brutta come tutte le malattie potenzialmente mortali il modello nazista cinese di controllo totale elettronico della tua vita con la possibilità di toglierti ogni diritto umano con un click compreso anche il tuo conto in banca è anche esso brutto come brutta è stata la demonizzazione di categorie create ad hoc la rabbia repressa che questa demonizzazione ha permesso di sfogare e il delirio di onnipotenza di certi personaggi che si ergevano a rappresentanti della ragione della giustizia e della scienza comunque sia sperando proprio che la prospettiva di un futuro dispotico e tecnodistopico si è motivata e dando per buona la buona fede di tutti ci sono stati comunque nella gestione di questa pandemia degli errori e degli abusi su quale giusto e sacrosanto che si discuta e che ognuno possa fare le sue denunce e le sue critiche riguardo l'azione militare della russia in ucraina e la nostra posizione geopolitica vi ricordo che ad ottobre rischiamo di rimanere senza riscaldamento senza benzina senza reddito di cittadinanza e con l'infrazione alle stelle ora a me non piace il regime russo sono decisamente più liberale progressista e sono fedele all'alleanza atlantica e trovo più che legittimo che uno critichi l'azione militare di un paese in un altro paese sovrano ma era necessario dire che putin è peggio di una bestia interrompere ogni scambio commerciale congelare i conti correnti di un cittadino italiano solo perché sposato con una russa e vivono pure in italia impedire a un cittadino russo che qui in italia di entrare in un negozio a comprare qualcosa perché in questo negozio non entrano cani e russi io dico di no e dico anche che i territori ucraini contesi sono abitati prevalentemente da russi dico anche che nel 2014 ci fu in ucraina un colpo di stato diretto e finanziato dagli stati uniti in cui successero cose poco carine ad esempio la strage nazista di odessa dove sono morte decine di persone innocenti sono anche loro esseri umani insomma facciamola breve non dico che ha ragione putin dico solo che la faccenda va valutata in tutta la sua complessità e tenendo conto delle ragioni e delle storie di tutti i protagonisti questa visione fiabesca dei rapporti internazionali dove c'è il lupo cattivo putin e allora noi difenderemo la fatina buona zelensky non andrebbe bene neanche per un bambino di tre anni e con certe esternazioni tipo fuck putin viva l'ucraina ci avete fatto la figura degli idioti comunque siete liberi di votare ovviamente chi volete mi raccomando solo fatelo perché andare a votare è importante chi non vota delega gli altri non delegittima proprio nessuno semplicemente la sua opinione non conta come vi ho detto un'alternativa c'è se volete una visione diversa di certi temi che hanno un impatto forte nella nostra vita reale se poi pensate che il principale problema non sia il carovita ma il fatto che all'angolo della strada c'è un marocchino che vende il fumo che poi non ho capito ai fini pratici che grande pericolo sia ma se vi dà fastidio vi dà fastidio è legittimo se pensate che bisognerebbe rimettere il servizio militare i crocifissi nelle scuole e andare in giro coi motori a due tempi a miscela votate destra se invece d'altra parte siete per una società fluida transumana con un totale controllo telematico tramite chip sotto cutaneo 24 ore su 24 dove il cittadino non possiede nulla e non ha alcun diritto va bene votate il pd quelli vanno dritti in quella direzione come un frecciarossa comunque sia io rispetterò la decisione del popolo e cercherò di resistere ciao a tutti e alla prossima ciao ciao ciao